Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. 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 tardi. tardi. a tutti. 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 Buongiorno, buongiorno. 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 Buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Allarga ste braccia di testa, tu ti cante eh! Torci! 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 Grazie a tutti. 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 Papà. Che c'è? Ho letto che l'album lo regalano... Ho letto che l'album lo regalano gli altri. Sì. Ci vuoi su Facebook lega a P? Dice che regaleranno gli altri. L'anno un panino. Poi che mi tenete fatto a te. Questa è la forma di che non avranno la faccia. Noi facciamo un'altra parte... Questa è una parte che ha fatto un'altra parte. Non si può fare un'altra parte. Noi non sono neppe compromettano. Non si può fare un'altra parte. Si sta avremmando la faccia. Oggi non si può fare un'altra parte. Arrivati. Noi ne sono paura. Non si può fare un'altra parte. Mortizia oltima. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti